Oggi, nella prima riunione plenaria, dopo l'orribile attentato che ci ha colpiti a Manchester il 22 maggio, purtroppo, dopo questo tragico evento, lo spargimento di sangue ad opera dei terroristi non si è fermato. L'ISIS ha colpito in Egitto contro i cristiani copti e il terrorismo ha colpito ancora a Baghdad e a Kabul, dove decine di persone inermi sono state barbaramente assassinate. A nome di tutti noi condanno con la più assoluta fermezza questi atti di inumana violenza ed esprimo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime. Si tratta di persone innocenti che non hanno fatto nulla e che hanno perso la vita a causa della barbaria di cui purtroppo l'uomo è ancora capace e contro la quale la voce del Parlamento si è levata, si leva e si leverà sempre con forza. Vi chiedo per questo di unirvi a me per un minuto di silenzio e ricordo di tutte queste vittime innocenti. Grazie. 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 Grazie.